Musica Buonasera a tutti ben ritrovati, torniamo ad occuparci di scuola e lo facciamo con il dirigente scolastico di Livigno, Bruno Speckenhauser. Buonasera. Buonasera, grazie per avermi invitato. Si chiude un altro ciclo a distanza di altri 12 mesi, qual è il suo stato d'animo? Si sente più liberato o in qualche modo anche triste? Diciamo entrambi gli stati d'animo. Da una parte triste perché alcuni obiettivi che mi ero preposto non sono giunti a una soluzione positiva. Dall'altro lato anche è abbastanza soddisfatto di altre proposte che noi abbiamo portato a termine positivamente e che spero nel futuro possano portare ad un ulteriore miglioramento della situazione dell'istituto che ho diretto in questi due anni. Quali erano i suoi obiettivi? Gli obiettivi erano prima di tutto di carattere didattico, quindi cercare di dare un'impronta didattica molto ben fondata, soprattutto nelle materie fondamentali. Ho lavorato molto su questo cercando di dare consigli sulla base dell'esperienza di insegnamento che ho avuto e cercando di migliorare quello che è l'atteggiamento didattico nei confronti delle discipline più importanti, sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado. Questo era l'obiettivo primario e resterà sempre l'obiettivo primario, penso di chiunque. Altri obiettivi erano di carattere soprattutto organizzativo, cioè dare un'impronta all'istituto che potesse essere fondamentale per il futuro, in particolare dotare per esempio l'istituto di una strumentazione adeguata dal punto di vista informatico e lì ci stiamo lavorando, abbiamo ottenuto dei primi risultati ma si deve lavorare ancora moltissimo. In particolare come avete testimoniato anche voi abbiamo inaugurato il nuovo laboratorio grazie al finanziamento europeo PON e quello è un aspetto estremamente positivo. Bisogna lavorare moltissimo ancora su altri aspetti, in particolare sulla garanzia di connettività, perché la scuola italiana ha bisogno di avere questa garanzia per poter migliorare le metodologie didattiche, in particolare metodologie didattiche poi legate all'assolutamente di quelle che sono le risorse in rete, quindi la connettività ci deve essere garantita. Per questo elemento didattico in primis secondo me e poi per l'elemento organizzativo, faccio un esempio banale però è un aspetto anche questo importante, cioè il fatto che la connettività legata all'utilizzo del registro elettronico ci consente poi di dare in tempo reale quelle che sono le informazioni alle famiglie. Quindi la mancanza di connettività ha creato dei disagi in alcuni plessi perché la mancanza di copertura non ha permesso ai miei insegnanti di fare puntualmente la compilazione del registro, quindi noi questo dobbiamo garantirlo e anche su questo stiamo lavorando in pieno accordo con l'amministrazione comunale. Quali problemi vi sono stati? Che cosa non ha permesso di avere la connettività? La copertura nei plessi è una copertura talvolta difficile legata al fatto che bisogna ancora per esempio mettere alcuni dispositivi, stiamo parlando di access point per la connessione wifi che non è garantita in tutti i punti dei plessi dell'Istituto Vivigno. Quindi questo in alcune aule per esempio non era possibile collegarsi al registro elettronico, poi per esempio nel plesso di San Rocco siccome c'è una connettività legata ad un altro tipo di connessione, alcune volte non sono riusciti a utilizzare né i pc in dotazione per la compilazione del registro né il laboratorio di informatica. Quindi è chiaro che tutte queste sono aspetti sul quale bisogna lavorare ancora molto per rendere il più possibile fruibili le risorse che noi abbiamo. Quindi dal punto di vista innovativo ancora… Dobbiamo ancora lavorare tanto certamente. Però lei aveva anche un altro obiettivo. Ne avevo tanti altri di obiettivi. Allora adesso cerco di un po' di riassumerli. L'obiettivo della riorganizzazione è anche degli uffici, così almeno mi collego a quello che ho detto in precedenza. In particolare, sempre dal punto di vista informatico, anche lì dobbiamo cercare di portare a termine un progetto che preveda la sostituzione del server in adozione alla segreteria per fare in modo che tutti i servizi legati a quelli che sono gli aspetti prettamente amministrativi possano essere garantiti. Quindi è necessario sostituire questo server perché ovviamente è obsoleto e che questo server possa permettere una fruibilità garantita a tutti quelli che sono gli impiegati della segreteria. In che contesto? L'altro obiettivo probabilmente di cui lei si riferiva era il discorso legato al fatto che ci potesse essere un maggior coinvolgimento della popolazione di Livigno sull'aspetto inerente alla scuola, in particolare anche nei ruoli di insegnante della scuola primaria o della scuola secondaria. Questi interventi per esempio di sostituzione di un server che competono? Stiamo parlando continuamente con il comune perché ovviamente... È il comune che deve garantire questo? La connettività quantomeno dovrebbe essere garantita dal comune. Questo è l'accordo che noi abbiamo preso con l'amministrazione comunale. Anche perché i finanziamenti purtroppo legati alla scuola sono sempre tagliati dall'amministrazione centrale quindi noi non abbiamo a disposizione grandi fondi per questo. E per questo motivo ci siamo attivati a partecipare ai fondi di finanziamento europeo. Però la collaborazione con il comune c'è sempre stata e quindi anche in quest'ottica abbiamo predisposto quest'anno una ricognizione di tutto quanto abbiamo attraverso un inventario concordato con l'ufficio competente del comune. Sulla base di questo inventario adesso dobbiamo operare uno studio abbastanza veloce, dovrà risultare abbastanza veloce al fine di poter sostituire questo server e permettere quindi questa fruibilità garantita al personale segretario. Già dal prossimo anno? Io mi auguro di sì. Ne parleremo proprio in questi giorni con l'amministrazione comunale. Per quanto riguarda invece il personale docente, il corpo docente? Ecco, sul corpo docente purtroppo abbiamo notizie ancora molto negative, nel senso che abbiamo avuto anche quest'anno 13 persone che erano di ruolo in anno di formazione e quindi di prova. Queste 13 persone hanno chiesto trasferimento alla fine dell'anno in corso, quindi noi allo stato attuale abbiamo ancora 20 posti da coprire solo nella scuola primaria. Nella scuola secondaria abbiamo pochissime persone a tempo indeterminato e abbiamo l'esigenza di coprire tantissimi posti, in particolare siamo completamente scoperti allo stato attuale nella materia più importante che è l'italiano, quindi l'italiano sta la geografia e quindi non abbiamo personale di ruolo. Abbiamo metà dei posti di matematica che non sono coperti, quindi è chiaro che noi siamo esattamente nella stessa situazione dello scorso anno. Il ministro Fedeli recentemente ha dichiarato che entro la metà di agosto verranno assunti i 52 mila nuovi docenti. Noi tra l'altro abbiamo avuto il piacere di incontrarlo personalmente a Sondrio, quando ha fatto la visita al nuovo istituto comprensivo, poi ha fatto un incontro prettamente dedicato ai dirigenti scolastici. Ci è stata data questa garanzia, la tempistica per quanto riguarda le nomine sta procedendo molto meglio che negli anni scorsi, è stata anticipata e la nostra speranza è che questa tempistica venga rispettata per fare in modo che in settembre si possa partire al di là del fatto che siano in ruolo o supplenti, però almeno con il personale garantito, cosa che gli altri anni non era possibile fare. Quindi queste per quanto riguarda le assunzioni in ruolo, dopodiché sapremo se tutte queste assunzioni verranno ridistribuite. Esatto, il problema è la ridistribuzione, perché purtroppo il problema di Livigno è sempre quello. Ecco perché a Livigno ci sono tante cattedre vacanti. Ecco, c'è il rischio ancora una volta, come dicevo lo scorso anno, che le immissioni in ruolo poi abbiano come risultato l'anno prossimo di vedere queste persone che chiedano di nuovo il trasferimento, anche se una possibile via d'uscita è legata al fatto che il vincolo dovrebbe essere triennale. Speriamo che questo venga mantenuto, però il problema è che la contrattazione poi che avviene in una seconda fase legata ai trasferimenti prima e alle assegnazioni provvisorie poi ci mette, in modo particolare l'istituto di Livigno è quello più bersagliato, ci mette nelle condizioni di non avere personale disposizione, perché noi adesso oltre a quello che le dicevo prima temiamo anche per le assegnazioni provvisorie in modo tale che qualche persona che in questo momento è a tempo indeterminato possa chiedere assegnazione da un'altra parte. Ecco, ha dichiarato in tal proposito che per quanto riguarda le supplenze verranno assegnate metà settembre. Ecco sì, si spera appunto per l'inizio dell'anno. Io quello che mi auguro è che all'inizio dell'anno prossimo l'organico dirà del fatto che sia a tempo indeterminato o determinato, quindi o di ruolo o supplenti, che però sia completo in modo tale che si possa garantire agli studenti di Livigno un inizio d'anno regolare, senza tutte le volte avere persone che ancora all'inizio dell'anno non sanno se rimarranno a Livigno o se saranno poi con altre opportunità spostate in altri istituti. Ecco, venti posti vacanti nelle primarie, significa che questi insegnanti hanno avuto diciamo delle promozioni, degli avanzamenti oppure... No, trasferimento in un'altra sede perché ovviamente io posso capire... Di avvicinamento. Di avvicinamento perché tantissime, ci sono tantissime situazioni di carattere personale e familiare che ovviamente dovevano essere consentite. Quindi non ci si affeziona, non ci si lega. Ma io credo che tantissime insegnanti che hanno insegnato Livigno si sono legati anche ai nostri bambini, ai nostri ragazzi. Però logicamente dopo si deve fare i conti anche con le situazioni familiari. Tante volte abbiamo discusso delle condizioni in cui questi insegnanti si trovano. Quali sono le condizioni attuali in cui questi insegnanti che arrivano devono fare i conti? Le condizioni indubbiamente non sono ottimali. Favorevolissime. Non favorevolissime. C'è questa possibilità di avere l'alloggio comunale che in questi due anni quantomeno è stato favorito da un'assegnazione anticipata rispetto agli anni precedenti e questo è già qualcosa. Ovviamente bisogna pensare che sono persone che magari hanno una famiglia che sono costretti a vivere una situazione anomala rispetto ad una situazione ideale, cioè quello di essere lontano dalla famiglia da una parte e magari di dover condividere un appartamento non in età proprio tipica. Sto parlando di università. In università si può anche pensare di condividere l'appartamento con altre persone. Quando si arriva magari a 40 anni o 45 anni è più difficile. Quindi è chiaro che la situazione logistica e personale potrebbe condizionare anche la serenità e l'equilibrio di queste persone. È assolutamente complessa. Come vengono accolti questi insegnanti? In generale vengono accolti bene gli insegnanti, non si sono mai lamentati dell'accoglienza o del rapporto che hanno avuto con la comunità di Livigno. E proprio il problema principale è un problema di carattere ambientale, non tanto per Livigno in sé, anzi è esattamente il contrario, quanto per le condizioni che le dicevo prima. Certo, quello che ha detto il Ministro è da un lato rassicurante, dall'anno l'altra sembra un po' un proclamo. Qualcuno politicamente l'ho anche un po' criticato, anche perché ne erano già state promesse 150 mila in precedenza, quindi di assunzioni. Ecco, qualche cosa si è mosso in questo anno oppure no? Ma l'intenzione di modificare un attimino la situazione sicuramente c'è stata. Dopo bisogna fare i conti con tantissime altre situazioni, non ultime con la garanzia o comunque la possibilità per qualche persona che aveva scelto delle sedi particolarmente disagiate di poter rientrare nelle zone dove risiede. Quindi credo che sia una situazione non dovuta solo a Livigno ma anche abbastanza generalizzata. In quanto la legge sulla buona scuola prevedeva già da quest'anno il vincolo triennale che poi è stato andato, che è andato come al solito in deroga e di conseguenza ha messo in difficoltà poi le istituzioni scolastiche nel coprire i posti necessari per un avvio di anno scolastico regolare. Chi verrà premiato? Chi lo merita o chi avrà fortuna? Nel trasferimento, lei dice? Vabbè, in generale il trasferimento nel momento in cui c'è la possibilità di farlo chiaramente viene assegnato. Non è un discorso meritocratico. Invece nell'assunzione? Nell'assunzione è stato, anche quest'anno è prevista la chiamata diretta, noi abbiamo fatto già gli avvisi sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria. La chiamata diretta in cui sono indicate i cosiddetti avvisi di chiamata per competenze, cioè noi abbiamo richiesto alcune competenze specifiche che servono alla scuola per coprire determinati posti. Se a queste chiamate non... Il problema di linea è questo. Nessuno risponde? Anche l'anno scorso è successo la stessa cosa. Quindi a chi si rivolge? A quel punto lì l'ufficio scolastico territoriale, d'ufficio, assegna le risorse come è capitato lo scorso anno. Lo scorso anno è capitata la stessa cosa. Ecco, ma queste risorse poi si trovano? Oppure bisogna attingere ad ulteriori... Alcune necessariamente si devono trovare perché sono il personale a tempo indeterminato, le 13 persone che le dicevo l'anno scorso, nello scorso anno. E altre invece poi si devono reperire attraverso le graduatorie di istituto di circolo e noi l'anno scorso abbiamo dovuto reperirle anche fuori da queste graduatorie quando effettivamente non c'era altra disponibilità. Quindi con le cosiddette domande di messa a disposizione abbiamo dovuto anche fare riferimento In buona sostanza la scuola di Livigno riesce a garantire il 10% del personale docente. Adesso il calcolo non l'ho fatto, però effettivamente dal punto di vista del personale di ruolo sicuramente sì, non di più. Quindi questo è sempre un punto estremamente critico. Critico. La scuola di Livigno a livello di organico anche quest'anno ha permesso ad alcuni giovani, giovani universitari, cioè che avevano concluso il percorso universitario, di cimentarsi nell'insegnamento. E questo sicuramente rispetto ad altre situazioni molto più stabili potrebbe essere in alcuni casi, e non sempre, però in alcuni casi una risorsa positiva, cioè può portare sicuramente a dei risultati estremamente Mentre nell'ambito della didattica? Nell'ambito della didattica è chiaro che anche lì poi dipende da persona a persona. Se le persone sono valide, assolutamente, immediatamente colgono, sanno chiedere, chiedono consigli e di conseguenza... Ecco, le pagelle ovviamente sono già state distribuite, quelle degli studenti, degli alunni, ma quelle degli insegnanti invece? Quelle degli insegnanti per ora sono ancora nella stessa situazione nello scorso anno, o meglio, noi si ricorda che l'anno scorso avevamo parlato di bonus meritocratico e che l'anno scorso è stato distribuito nella percentuale dell'80%, cioè nel senso che i fondi che il dirigente scolastico aveva assegnato, i docenti con particolari meriti, è stato distribuito per l'80%, siamo ancora in attesa del 20%. Quest'anno è stato confermato, però per intanto non ancora erogato, quindi noi manteniamo gli stessi criteri dell'anno scorso in attesa però che questo finanziamento... Le valutazioni da chi vengono fatti? All'interno della scuola c'è un comitato di valutazione che è costituito da docenti dell'istituto, ovviamente da dirigente scolastico, dai docenti dell'istituto, da una componente genitori e da un dirigente nominato dall'ufficio scolastico regionale come componente esterno. Il comitato di valutazione predispone la griglia di valutazione che il dirigente scolastico poi deve, con sua totale responsabilità, sulla base delle dichiarazioni dei docenti, stilare e quindi stilare una graduatoria e quindi assegnare il merito sulla base dei fondi che sono a disposizione. Questo lavoro è stato fatto lo scorso anno, dal sottoscritto prima dell'inizio delle lezioni. Certo, certo, un lavoro delicato ma inevitabile, no? Molto delicato, però è chiaro che è necessario farlo, dopo è logico che si possa, assolutamente si possa sbagliare, però è necessario farlo perché la linea meritocratica deve essere una linea che deve essere assolutamente perseguita. Certo. A proposito di valutazioni, come è andato l'anno scolastico? È stato un anno scolastico decisamente critico in termini di valutazione, perché se noi guardiamo i numeri, io ho questa inclinazione spontanea verso i numeri, la conclusione dell'anno scolastico cosa ci dice? Ci dice che abbiamo dovuto non ammettere ben 25 alunni della scuola secondaria, stiamo parlando di secondaria perché nella primaria, come tutti sanno, ci vuole un accordo tra la scuola e la famiglia nel caso in cui alcuni studenti non sono ammesse l'anno successivo. Però ecco, deve esserci un totale accordo tra scuola e famiglia. Nella scuola secondaria invece è competenza dei consigli di classe e quest'anno noi abbiamo avuto purtroppo 25 persone non ammesse all'anno successivo e in particolare 11 di queste non ammesse all'esame di stato. Sono numeri piuttosto forti per una scuola del primo ciclo, me ne rendo perfettamente conto. Io ho seguito tutti gli scrutini, c'erano però purtroppo delle situazioni in cui è stato quasi impossibile discutere perché un po' su tutti i fronti le situazioni di negatività non permettevano una missione tranquilla l'anno successivo. Si è sempre fatto riferimento soprattutto al concetto di valutazione, non di misurazione numerica delle competenze. E cioè si è discusso sul fatto che una persona potesse o meno affrontare l'anno successivo con gli adeguati strumenti a disposizione. Quindi quando si è discusso di una non ammissione, la non ammissione è derivata da questa motivazione, non dalla motivazione numerica, ho un certo numero di insufficienze e quindi vengo fermato. È stata basata sulla valutazione. Abbiamo fatto anche un corso con un funzionario del Ministero che per il secondo anno è venuto a parlare. L'incontro è stato fatto a Bormio però è stato proposto sempre dall'Istituto Comprensione di Livigno. Il professor Previtali che ci ha parlato di queste cose, ha parlato a una platea anche abbastanza numerosa di docenti mettendo in risalto questo aspetto, cioè l'aspetto della valutazione di una persona. La valutazione di una persona prescinde dal discorso di voto numerico, ma deve essere basata sulla reale possibilità che una persona possa avere gli strumenti per seguire la programmazione prevista dal curriculum dell'Istituto per un certo anno di studio. È stata posta attenzione su questo. Mi è dispiaciuto moltissimo, cioè effettivamente numericamente noi siamo un istituto con forse in provincia, credo di poterlo dire con tranquillità, non ho guardato i dati degli altri istituti, però credo che sia che l'Istituto Comprensione di Livigno abbia il maggior numero di non ammissioni alla classe successiva. Questo è purtroppo triste per me ammetterlo, però come le ripeto è stato fatto un lavoro di questo tipo. Vi sono state per contro delle eccellenze, delle valutazioni invece opposte? Sì, ci sono, diciamo che dipende moltissimo dalle classi, dalle situazioni, però ci sono assolutamente delle eccellenze a Livigno che devono essere tutelate, che devono essere seguite con attenzione per fare in modo che il prosieguo degli studi sia sereno e tranquillo. Questo è l'aspetto essenziale. Non vi sono state valutazioni massime? Quest'anno all'esame di Stato purtroppo non ci sono state valutazioni massime, ciò può essere dipeso da tantissimi fattori, non ultimo anche fattori legati proprio al tipo di classe o anche alla situazione personale di ciascun alunno. Per conto, lo scorso anno era accaduto l'inverso? Al contrario, sì, l'annata dello scorso anno è un'annata che penso ci ricorderemo, perché ci sono state tantissime eccellenze che hanno portato a spendere molte buone parole nei confronti della preparazione degli studenti di Livigno. Adesso stiamo valutando però anche qual è stato l'impatto, abbiamo cominciato questo lavoro quest'anno, qual è stato l'impatto di queste valutazioni nei cosiddetti risultati a distanza, e cioè vedere qual è l'effetto, si chiama, la gestione di questo risultato nei risultati sulle scuole successive, perché è molto importante saperlo per noi questo. Ecco, ovviamente non abbiamo gli strumenti per poterlo fare, ma così a grandi linee, basandoci solo sui numeri, ci pare di capire che qualcuno si è trovato in estrema difficoltà alle scuole superiore, nonostante il voto, un eccezionale esito, perché dici si collode. Certo, assolutamente sì. Questo può essere dovuto anche al caso singolo di una mancanza magari di adeguato ambientamento nella scuola di origine, però noi dobbiamo interrogarci. Io non voglio attribuire colpe a chi non le ha, cioè nel senso che io sono sempre molto critico e cioè dobbiamo fare una forte riflessione sulla nostra didattica per vedere se la nostra didattica sia la didattica giusta per permettere ai nostri ragazzi di avere dei risultati eccellenti nelle scuole successive e questo lavoro è cominciato già quest'anno attraverso un'interazione all'interno del nostro istituto tra i docenti della primaria e i docenti della secondaria e dall'anno prossimo sarà messo in atto un'interazione con i docenti della secondaria per poter condividere alcuni principi e per fare in modo che i nostri alunni quando vanno nelle scuole superiori non si trovino spiazzati. Questo vale per tutte le scuole. Mi correga se sbaglio. È vero che ad essersi trovati peggio sono stati gli studenti che si sono rivolti all'istituto di Bormio e che invece quelli che hanno proseguito gli studi in Alto Adige o a Sondrio hanno avuto meno difficoltà? Il dato statistico ci dice questo. Come mai? Dipende tantissimo dalla particolare situazione di questi ragazzi, di ambientamento di questi ragazzi. Teniamo conto che un'altra problematica è legata al fatto che molti studenti devono far fronte ad una fatica anche fisica quando vanno a seguire gli istituti di Bormio perché il viaggio incide. Io lo dico per esperienza diretta perché ho avuto tanti studenti di Livigno che all'inizio delle lezioni erano assolutamente più stanchi fisicamente degli altri che provenivano da località più vicine. Questo è un aspetto che non dobbiamo trascurare. Poi altri aspetti potrebbero essere anche derivanti da qualche criticità magari della didattica di alcune discipline. Stiamo studiando questi aspetti perché vogliamo capire se riguarda alcune discipline piuttosto che altre. Difatti stiamo facendo degli studi statistici su questo. Se la difficoltà è prevalentemente in alcune discipline piuttosto che in altre. Se è una questione generalizzata, se la statistica ci dice che tutti quelli di Livigno hanno avuto questa difficoltà. Questo non mi risulta allo stato attuale. Però è uno degli obiettivi che ci siamo posti alla fine dell'anno. Nell'ultimo collegio ho fatto vedere alcuni di questi risultati per poter riflettere su queste che sono le possibili migliorie che dobbiamo assolutamente mettere. Si è già fatto un'idea, ha già una risposta. No, una risposta non ce l'ho perché preferisco avere un dato statistico certo prima di... però alcune problematiche sono già state individuate all'interno della nostra scuola, soprattutto di carattere prettamente didattico in cui sicuramente bisogna migliorare. Ma questo... Bisognerà addrizzare... Bisogna, sì, ma questo in tutte le scuole. Le dico anche... Per quanto riguarda le lingue e i laboratori linguistici, la scuola di Livigno come si colloca? Sulle lingue stiamo lavorando in questo senso. Allora abbiamo fatto un focus sulla didattica attraverso un confronto tra gli insegnanti che sono stati in servizio e anche quelli che sono stati negli anni precedenti. Abbiamo attivato dei percorsi con un cambiamento poi in corso d'opera per quanto riguarda i soggiorni che devono essere assolutamente favoriti e soprattutto abbiamo fatto sperimentazioni nei cosiddetti compiti di realtà in cui le lingue assumono un'importanza fondamentale procedendo a dei lavori studiati sulla valorizzazione delle competenze. Vi faccio un esempio. Preparazione di un opuscolo da dare ai turisti. Non è fatto in una singola materia, ma ci vogliono competenze in tante discipline e le lingue poi in questo contesto sono trasversali strumenti, diventano uno strumento fondamentale per poter arrivare al risultato conclusivo. Sono questi aspetti da potenziare. Aspetti di questo tipo e aspetti soprattutto riguardanti. Sulle lingue io ho un'opinione particolare e cioè ritengo fondamentale, soprattutto nella secondaria, che si debbano insegnare lingue parlando durante la lezione nella lingua che si sta insegnando. E questo è ancora un po' difficoltoso. Come mai? Non è semplice neanche per gli insegnanti perché indubbiamente è chiaro che... Non sono preparati a questo? No, in alcuni casi potrebbe essere anche una scelta perché anche negli anni in cui sono stato insegnante si discuteva su questo, se fare la lingua utilizzando come lingua veicolare è la nostra lingua madre oppure no. Perché è il metodo che utilizzano in tutto il mondo. Assolutamente sì. Fin da bambini, fin dalle materne. Io non sono ovviamente competente in quest'ottica dal punto di vista didattico, però ritengo che sia fondamentale puntare su questo, cioè puntare sul fatto che la lingua veicolare sia la lingua che si insegna. Quindi assolutamente i ragazzi sono in grado di recepire questa possibilità. Poi alcune difficoltà che possono intervenire nel corso dell'anno scolastico portano magari spontaneamente, non per loro volontà, ma spontaneamente gli insegnanti a fare una scelta di tipo diverso, a seguito delle difficoltà che intercorrono per un tipo particolare di classe oppure per altre difficoltà di carattere didattico a tornare sui passi e usare ancora la lingua madre come lingua veicolare. Abbiamo parlato del PON, quello che vi ha permesso, grazie ad un finanziamento europeo, grazie ad un concorso che avete vinto, di realizzare una magnifica aula didattica, informatica. È stata utilizzata? Sì, siamo molto contenti, sia di come, qual è stato il risultato finale, cioè dell'aula in sé, che è stata utilizzata anche, le dico la verità, oltre le mie più rosee di provisione, quindi questo mi fa particolarmente felice. Anche in quest'ottica qui, l'unico neo è che la nostra aula non è ancora, in quest'aula non è ancora garantita la piena connettività. Difatti abbiamo dovuto fare una specie di variante al progetto, prevedendo una connessione in rete ancora via cavo, perché non era garantita questa connettività. Quindi l'aula in sé l'abbiamo utilizzata nel migliore dei modi, con dei cavi aggiuntivi che esteticamente non erano bellissimi, ma che ovviamente ci hanno permesso un utilizzo adeguato. E anche nelle riunioni di scrutinio, eccetera, l'abbiamo utilizzata, quindi è stata utile sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista organizzativo. Adesso manca un ultimo tassello che vorrei fare quest'estate, che chiederò al comune, attraverso magari l'ausilio di persone specializzate in questo, e questa è una cosa che ho rubato, le dico la verità, andando a fare il presidente di commissione in altre scuole, di poter colorare le pareti in un altro modo, per renderla ancora più vivace e gradevole. Più accolienti. Un altro aspetto che dobbiamo tenere in considerazione. Vorrei fare questo quest'estate se riuscissi. Come nei paesi scandinavi. Esatto. Gli alunni come si sono trovati con questa, con quest'aula didattica? Come si sono trovati? Gli alunni entusiasti nell'utilizzo di quest'aula, assolutamente entusiasti. Che interagiscono con facilità. Con facilità. Loro, ecco, sugli alunni problemi di questo tipo, visto che sono nativi digitali, non ce ne sono mai. Non ce ne sono. Non ce ne sono mai. Ecco, so che grazie al suo personale docente e alla passione anche di alcuni docenti, è riuscito a portare a casa tanti risultati. E state lavorando su altri progetti. Quindi vi saranno... Sempre rimanendo in campo finanziamenti europei. Avete partecipato ad altri concorsi? Complessivamente in questi due anni ha quattro. Uno è stato concluso, che è quello che ha permesso l'installazione di questo nuovo laboratorio. Il secondo, notizia recente, quindi mi fa piacere che tutta la comunità lo sappia, il secondo, che riguarda l'inclusione, il disagio sociale in inclusione, è stato valutato già positivamente. Nella graduatoria provvisoria sono stati valutati positivamente 400 progetti e noi siamo alla posizione 215, quindi circa metà classifica. Crediamo, con estrema fiducia, che anche questo nostro secondo progetto venga finanziato. È un finanziamento cospicuo perché si tratta di una cifra intorno ai 40 mila euro. Che cosa prevede? Prevede soprattutto l'attivazione di numerosi progetti di carattere didattico, che vanno dall'alfabetizzazione motoria fino alle competenze nella lingua madre, le competenze digitali. Quindi ci sono tantissimi progetti all'interno di questo finanziamento, che potenzieranno sicuramente quelle che sono le competenze dei nostri studenti. Quindi quando io ho visto la graduatoria ovviamente posso capire se sono stato molto felice. Gli altri due concorsi? Gli altri due concorsi riguardano, il primo concorso, la prima partecipazione è stata fatta attraverso una sinergia con l'Istituto Alberti, con il quale abbiamo firmato un protocollo di intesa e riguarda le competenze di base, competenze di base nella lingua madre, nella matematica e lingue stranieri. Quindi ci sarà una sinergia che poi potrebbe essere utilizzata per i discorsi che facevamo prima, quindi di continuità tra la scuola secondaria in primo grado e la scuola secondaria in secondo grado, attraverso l'utilizzo di docenti, qui a Livigno, di docenti da secondaria e viceversa. Quindi è uno scambio? Uno scambio, sì. Quindi anche per la formazione credo sia... È una cosa utilissima. Ecco, già che siamo in quest'ambito qui, aggiungo che in accordo con la mia collega abbiamo già messo in opera, anche se non è stato firmato formalmente, un accordo di rete che riguarda, diciamo così, le scuole dell'Alta Valtellina per ogni progetto di formazione. Quindi le scuole dell'Alta Valtellina, cioè l'Istituto Comprensivo di Livigno, Comprensivo di Bormio, Alberti, quantomeno queste tre, collaboreranno effettivamente nei prossimi anni per fare una formazione, diciamo così, comune. Quindi qualsiasi tipo di risorsa può essere condivisa. E questo secondo me è assolutamente fondamentale. Il quarto progetto? Poi il quarto progetto è recentissimo, l'abbiamo presentato nel mese di maggio, è un progetto di cittadinanza globale, fondato su alcuni progetti che già nella scuola di Vigno, almeno in embrione, sono già presenti. In particolare riguardante l'alimentazione, stili di vita sano, eccetera. Quindi sono legate a quei progetti più ampi che si chiamano Life Skills e di conseguenza viene poi portato attraverso procedure di carattere didattico all'interno della programmazione curricolare. Io mi auguro che anche questi ultimi due, nonostante poi questi progetti portino un grande lavoro dal punto di vista amministrativo e contabile, possano essere valutati positivamente. Anzi, sono, non dico sicuro, ma comunque sono ottimista da questo punto di vista. Nella scuola di Vigno, come in tutte le scuole, vi sono bambini che provengono da tutto il mondo. Da questo punto di vista sono stati fatti, sono stati attivati dei progetti particolari, proprio per accoglierli, per sostenerli, nel senso che abbiamo parlato prima di disagio sociale e anche di inclusione sociale. Proprio il senso di questo progetto che noi abbiamo presentato è anche visto in quest'ottica. Diciamo che l'accoglienza c'è sempre stata, sia da parte della scuola che da parte della comunità anche all'esterno. Noi abbiamo complessivamente, adesso i numeri precisissimi non me li ricordo, però intorno tra gli 80 e i 90 alunni che provengono... Stranieri. Stranieri, sì. Quindi da altre parti del mondo, anche molto diversificate, la Repubblica Dominicana, piuttosto che dai paesi dell'est, quindi Portogallo, tantissimi stranieri che sono una risorsa, devono essere una risorsa, assolutamente devono diventare una risorsa. Per questo motivo abbiamo attivato questo progetto, oltre a, diciamo così, alle normali operazioni di accoglienza e di inclusione che vengono ormai, che fanno parte comunque del nostro protocollo all'interno della scuola. Al di là di questo, però, pensavamo di mettere in campo nei prossimi anni progetti di accompagnamento, soprattutto per quanto riguarda le difficoltà che loro riscontrano nella nostra lingua. Teniamo conto che la nostra lingua, per gli stranieri, è una lingua molto difficile da imparare. Certo. Quindi contiamo di fare un lavoro di questo tipo sugli studenti e non solo sugli studenti, ma anche sulle famiglie, anche perché nei colloqui con i docenti, nella... È importante che si capiscano. Certo, certo, perché, oltretutto, anche e soprattutto nella scuola primaria, nel momento in cui la famiglia deve seguire un bambino, deve essere in grado di seguirlo. Quindi la conoscenza della lingua italiana è assolutamente importante. Ecco, anche perché questi bambini, appunto, già si trovano con questo impatto incredibile della lingua, devono imparare un'altra lingua. Certo. E con questa lingua imparare altre competenze. Sono, per questi bambini o anche per altri bambini che si trovano in difficoltà, sono stati attivati degli sportelli. La scuola, per esempio, per chi, ecco, è un po' in difficoltà, non riesce a seguire bene il programma, attiva degli sportelli che li possono aiutare, magari anche in orari extrascolastici, a recuperare? Sì, parzialmente dalla scuola. Sono stati assolutamente sempre attivati nel momento in cui c'è stata un'esigenza. Noi abbiamo cavalcato questa esigenza per poter risolvere le problematiche. In più c'è stata la forte collaborazione da parte delle istituzioni con le quali abbiamo firmato il protocollo di comunità educante, in modo particolare la parrocchia, il CAG, eccetera, che ci hanno dato una grossa mano anche per risolvere alcune problematiche che potevano essere individuali. Perché è logico che noi possiamo attivare dei corsi, per esempio dei corsi di recupero, di approfondimento, su gruppi almeno di 5, 6 persone, 10 persone, ma quando la persona magari è una sola è chiaro che non si possono attivare dei corsi ad hoc per queste persone. Quindi queste istituzioni ci hanno aiutato anche nell'affrontare casi singoli per poterli risolvere nel migliore dei modi, con la collaborazione sempre anche della famiglia. Quindi è un aspetto unico rispetto ad altre situazioni. Questo Livigno, posso dirlo ad alta voce, non credo che ci siano altre comunità che collaborano così fattivamente nei confronti di queste situazioni che si possono incontrare a scuola. Bene, questo credo sia molto importante. Assolutamente importante, sì. E ci fa molto piacere. Il suo bilancio, mi pare di capire, non è completamente positivo. No, purtroppo no. Il bilancio è un bilancio in chiaro scuro. Se da un lato, abbiamo parlato di alcuni aspetti positivi, dall'altro lato, anche gli aspetti della valutazione, criticità ne restano tantissime. Ovviamente ciò non ci si deve fermare, nel senso che proprio partendo dalla consapevolezza di queste criticità si deve lavorare per poterle superare. La scuola di Livigno, ribadisco, ha tantissime positività, tantissime possibilità di essere una risorsa importante per il territorio. Dobbiamo credere tutti che lo sia, credere fino in fondo che lo sia. Non è semplicemente un punto di passaggio. Ricordiamoci che dalla scuola, la scuola è una delle poche istituzioni in cui tutti, prima o dopo, ci dobbiamo passare. Quindi è da qui che dobbiamo, diciamo che è un discorso di carattere generale questo, è un po' un discorso che si fa anche nello Stato. Cioè noi dobbiamo partire dal presupposto che è dalla scuola, passano tutti. E quindi investire sulla scuola, investire non economicamente, ma investire sul fatto che la scuola funzioni è un tassello fondamentale per crescere, per fare in modo che la comunità cresca, in tutti i sensi. Abbiamo parlato di trasferimenti, ve ne è un altro di trasferimento nell'aria, lo conferma? Io voglio essere sincero perché è molto importante che anche Livigno conosca la situazione nel dettaglio. Allora, come ho annunciato nell'ultimo collegio docenti, a seguito del pensionamento dalla mia collega dell'istituto comprensivo, Martino Anzi di Bormio, io per motivi ovviamente prettamente di carattere familiare, personale, ho fatto domande di trasferimento, si chiama intermente che è un commutamento di incarico in pendenza, perché il mio incarico scadrebbe alla fine del 2018, cioè un incarico triennale. Che cosa accadrà, Livigno? Dunque, la situazione attuale della dirigenza scolastica è questa, non sono stati fatti ulteriori concorsi, quindi non ci sono altri dirigenti che possono sostituirmi in questo caso, nel caso in cui avvenisse il trasferimento. Quindi lo scenario più probabile è che Livigno abbia un incarico di reggenza, cioè che un dirigente scolastico titolare in un altro istituto scolastico venga a reggere l'istituto Livigno come è capitato prima, già in passato. Nell'ipotesi che nessuno faccia domanda di reggenza, che cosa potrebbe accadere? Quale potrebbe essere il piano B del... Dunque, tutto dipende dall'ufficio, sia i trasferimenti che non... I trasferimenti dei dirigenti non funzionano come i trasferimenti dei docenti, non sono fatti sulla base di una graduatoria, ma sono discrezionali, vuol dire che l'ufficio scolastico, in particolare il direttore dell'ufficio scolastico regionale, dal quale noi dipendiamo, può decidere in qualunque momento con motivazioni, con adeguata motivazione di cambiare anche un dirigente volendo o di non accettare un trasferimento, per quello che non c'è niente di sicuro, come le dicevo prima. Nel caso della reggenza, allora prima viene richiesta una disponibilità di massima, poi il direttore dell'ufficio scolastico regionale decreta l'assegnazione delle reggenze d'ufficio, cioè nel momento in cui non c'è alcuna candidatura o cose di questo genere, assegna d'ufficio della reggenza, sulla base di una logica, questa logica può essere di tanti tipi, una logica possibile potrebbe essere quella della continuità, per cui può essere che il direttore dell'ufficio scolastico regionale decida che a seguito del fatto che il sottoscritto, adesso poniamoci nella situazione che le dicevo prima, cioè che io ottengo il trasferimento all'istituto comprensivo di Bormio, può darsi che il direttore decida, che siccome io ho già fatto per due anni il dirigente scolastico... Affidire la reggenza. Affidire la reggenza, ovvio che non è come avere la titolarità, questo è fuori di dubbio, anche perché in questo caso vorrebbe dire gestire un numero di studenti intorno ai 2000 complessivamente, quindi sono veramente tantissimi. Siamo in conclusione, vuole aggiungere qualcosa? Beh io innanzitutto devo... il mio appello è un appello, non è un appello ma è un ringraziamento a tutto quello, a tutta la comunità, perché ovviamente ho sentito in ogni momento della mia attività, sia da parte delle istituzioni, sia da parte delle famiglie, quindi di tutta la comunità, una grande vicinanza nel fare questo, nell'avere questo compito molto delicato di dirigere una scuola, oltretutto alla prima esperienza del dirigente, quindi io ringrazio tutti per la collaborazione, rimarrò sempre, adesso non vorrei parlare diciamo così come se fosse già avvenuto il trasferimento, comunque rimarrò molto affezionato, in primis ovviamente come potete capire, ai bambini, ai ragazzi che ho conosciuto in questa esperienza, ma diciamo anche a tutta la comunità in generale, quindi il mio appello non è un appello, come ripeto ma soprattutto un ringraziamento a tutta la comunità per il sostegno che mi è stato dato e che ho sentito molte volte, molto presente in ogni momento della mia attività. Grazie. Grazie a voi. Grazie anche a voi da casa che ci avete seguito, a venerdì prossimo.